Musica Proseguiremo ora con chi di ciò tenne non è più Domenico Cassera Cassera Applausi 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 Non ti emozionare, la voce ce l'hai bellissima Infine Salvatore Porti che ritirerà la medaglia al valore la figlia Cordelia Polpi, accompagnata sempre dal filo del suo comune. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!